Eccoci, eccoci Rufus in tutta la sua bellezza Oddio La parte dove mi mimetizzo le soldate La planeta riuscita da energia E tutto ciò, morirà Potremmo overcorrere il nostro fate Amo io la stessa cosa questi monstri? Amo io... umano? Ok, stiamo cercando Sephiroth Credo che puoi trovare lui? Oh, Sephiroth Sì Allora, tu hai chiesto la coltura di te Cosa ti parli? Il buggy Il ciocopo nero, il ciocopo blu No Ok, Yuffie Ok, Yuffie Gli attacchi combinati C'è la parte di Cloud Essay Grotti insieme? Ma quello è il Materia... Ma quello è il Materiaeater Quindi, eh, c'è la parte... C'è la parte del sog... C'è la parte del sogno giocabile C'è la parte del ricordo... C'è la parte del sogno... La parte del ricordo... Di Nibela e lo giocabile Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Il Gold Saucer Ug человек Le corse di Giocobo Guarda, guarda il minigiochi Excuse me Puede indtilinemmo all'inizio? Solo per un po' E' Glenn Questo che è, è Glenn diamond no emeraldi chi è aspetta una web ma fino a dove arriva fino a dove arriva 29 febbraio 2024 twin pack preorder start